Buongiorno e un saluto a tutti. A tutti gli amici che sto vedendo in questo momento mi fa estremamente piacere, con cui abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Il mio settore è quello dello sviluppo del settore turistico alberghiero per l'Italia. Ho iniziato questa attività nel 1984 quando è nato a Cor e che mi hanno dato l'incarico di sviluppare questo settore nell'ambito nazionale. È stato un momento estremamente difficile dove ho imparato moltissimo perché, se ricordiamo quei tempi, il settore turistico alberghiero aveva una media di 20 camere per albergo e le catene internazionali erano circa il 4% di tutta la componente alberghiera del paese. Ricordando anche il terreno, avevamo un'inflazione del 15%, il costo del denaro era improponibile e i costi dei terreni erano altissimi. Tutto si è evoluto e in questo momento il settore alberghiero rappresenta un volando importantissimo per il nostro paese, in termini di economie e di ricchezze che si possono produrre. Certamente l'albergo ha una componente immobiliare, ma è una componente. Tutto il resto, essendo un'azienda, è necessario che funzionino tutti gli altri elementi che sono estremamente importanti, tipo le infrastrutture, la formazione professionale, la burocrazia, che in questo momento è estremamente cattiva nello sviluppo dell'immobiliare. Un albergo deve passare sette livelli di autorizzazioni ed è estremamente difficile, non solo per l'albergo, ma per tutti i prodotti che sono legati poi all'attività economica. Se si pensa oggi che il mondo sta cambiando alla velocità della luce, tra il digitale, l'intelligenza artificiale, la robotica, i bisogni cambiano e quando cambiano i bisogni veloci cambiano anche i prodotti, sia nell'immobiliare. Quando costruisci un prodotto deve essere in linea con i bisogni. Se tu passi anni nella burocrazia per riuscire ad avere delle autorizzazioni, quando realizzi il tuo prodotto è già superato. Difatti oggi quello che stiamo vedendo a livello nazionale è la ristrutturazione del parco alberghiero o uffici o altro. Voi vedete quanti uffici si stanno trasformando in un albergo a Milano. Stanno cambiando tutti i bisogni e anche l'albergo deve seguire un'evoluzione di bisogni. Pensate che l'Italia ha sui punti più importanti il 60-70% di clientela estera. Quindi i bisogni sono interrezionali e devono essere studiati con estrema intelligenza. In questo momento il mio lavoro è stato estremamente di soddisfazione, perché quello che mi ha contraddistinto, come con tutti gli amici e colleghi che sono con me in questo momento, è la passione del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato con passione in questo Paese, abbiamo creato degli investimenti, abbiamo creato posti di lavoro dove noi dobbiamo essere solo orgogliosi. Questa passione ovviamente a questo momento, alla mia età, serve per trasferire ai giovani. Ciò che ho fatto in questi ultimi anni, sia con gli amici presenti sulle lezioni, ai master, negli università, sia alla LUIS, attualmente al Politecnico, e trovo nei giovani una reciduità grandissima nel sapere, nel conoscere le nostre esperienze e inserirsi in un mondo che cambia. La regola da dare sempre a tutti che finisco è quella che gli esami nella vita non finiscono mai, e quindi c'è sempre da imparare. Ancora oggi io devo imparare, essere aggiornato e seguire. Certamente il prodotto alberghiero prossimamente cambia, perché sia le sale e le riunioni dovranno essere ridimensionate, altri aspetti dovranno essere seguiti. Lì i bisogni internazionali che cambiano. Prima c'era da stupirsi, i negozi, gli alberghi, il design, eccetera. Poi la sicurezza, perché la gente chiedeva sicurezza. Oggi l'ultimo è il benessere. La gente che vuole in un albergo cerca anche gli aspetti. E qui si inserisce il discorso dello sviluppo sostenibile, il rispetto dell'ambiente, il risparmio di energia, e sono tutte le cose legate all'albergo, ma anche come formazione professionale nei confronti dei dipendenti che imparino anche che siamo in un mondo green nel nostro futuro. Grazie a tutti.